È una grande emozione, sono tre anni di lavoro in una delle chiese più cariche di storia della nostra città, fra l'altro l'unica di proprietà del comune. È stato un lavoro complesso perché abbiamo dovuto rimuovere il solaio di Calpestio per portare alla luce le tracce archeologiche molto importanti, antiche mura di protezione della città. Abbiamo dovuto restaurare le parti in legno, l'organo dell'Ottocento, gli stucchi del Settecento. Abbiamo ripristinato le immagini che ritraevano i parroci di questa chiesa, da Valerio Laspro ad altri. Veramente è un'opera incredibile. Poi ovviamente c'è la facciata, l'opera all'esterno, la cupola, le ambroggette di Giancappetti, veramente è un lavoro straordinario che restituisce la città, un luogo di culto a cui siamo legati tutti e restituisce anche una splendida opera di architettura e della nostra storia. È una famiglia che torna a casa, quindi per una parrocchia avere la chiesa è il luogo dove ci si ritrova, dove ci si rincontra, è il ritrovarsi per il Signore, quindi certamente è un momento bello. Ora speriamo che oltre la chiesa cresca la chiesa dei cristiani. Grazie. Grazie. Grazie.